Si chiama Arezzo per l'Emilia ed è un'iniziativa che occuperà per l'intero fine settimana l'Equestrian Center di San Zeno alle porte di Arezzo con una cena di beneficenza, divertimenti per bambini, mostra mercato di prodotti artigianali dell'Emilia ed esposizione di artisti aretini e delle province di Modena e Ferrara. Motore dell'iniziativa è la CNA di Arezzo con il patrocinio di comune e provincia. Il programma prenderà il via venerdì 29 giugno con una cena a base di prodotti tipici locali al costo di 25 euro e proseguirà poi nel sabato 30 e domenica 1 luglio con gli spazi espositivi e la mostra mercato, un parco per i bambini, intrattenimenti musicali, poni a disposizione dei più piccoli ed il raduno del Vespa Club che domenica porterà ad Arezzo all'Equestrian Center le bandiere dei comuni colpiti dal sisma. Il ricavato di tutte le iniziative sarà destinato a finanziare i lavori in una scuola di finale Emilia. Ci saranno delle mostre di antiquariato, cultura, pittori, toscani ed emiliani. Questo ha dimostrazione che la vita deve andare avanti, che è necessario salvaguardare il posto di lavoro, che chi opera in questo settore, nel settore dell'artigianato, della mostra, della cultura debba in qualche modo superare queste difficoltà e guardare al futuro possibilmente con qualche speranza e con un po' di ottimismo.